E' dal miglior partito del 76 che Jack lavora nella sua distilleria del Tennessee per artizzare un whisky di portato mondiale. Jack Delia, colore liquido, gusto intenso, da bere liscio o conchiato, da soli in compagnia. Scegliete il meglio, fate come me, scegliete Jack Delia. Passava qualche ora e la pubblicità, dopo il programma a cui seguiva, veniva riproposta. Erano circa le 19 e lui si ripresentava. Erano circa le 19 e lui si riportava. E' dal 1866 che Jack lavora nella sua misciteria del rischio. E' un peccatino. E lavora per il miglior rischio nel mondo. Jack Daniels. Colore liquido, tutto stesso, il giusto mischi per voi. Fate come me. Scelete il meglio, scelete Jack Daniels. Passata qualche ora c'era il telegiornale, c'era il programma di prima serata, alle 22 circa ancora sport pubblicitario. Il messaggio era così. All right. E' dal 1866 che Jack si fa un po' così. Lavenuta. Noi io non mi perdonne sì. Questo mizchi stupendo e contrasto il TORO liquido, il musì incluso. Scegliete il meglio, il meglio. Fate come me. Scegliete Jack Daniels. Il programmi continuavano, c'era poi il programma notturno che una volta per noi uomini era anche piacerevo nella vedere, adesso vedo, ci sono un sacco di numeri e non ho capito perché. Alle 24 comunque era l'ultima faccia pubblicitaria della giornata, il nostro protagonista aveva lavorato dalle 8 del mattino senza mangiare e senza bere, alle 24 rientrava per l'ultimo sport. Non si bagna, non si bagna. Non si bagna, non si bagna. Non si bagna, non si bagna. No, ho capito, è � duro, vedo perché a quando, questo, sto provato, quello che è, questo qui, sta in questa casa di exhibitions e ho detto정istò, E poi... E io... E io ero... E io ero pochì e io ero pochì BRAVO! BRAVO! Grazie.